Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e quest'oggi parleremo di numeri di serie. Cosa sono, come funzionano e qual è la loro effettiva importanza. Ma prima di cominciare, come sempre, call to action. IT Support è un canale unipersonale, quindi gestito in toto a 370 gradi, gestito in totale dal sottoscritto e vi garantisco che tenere tutto quanto sotto controllo è veramente abbastanza impegnativo. Ancora più se consideriamo che per quanto io possa prodigarmi anima e corpo nella creazione di contenuti sempre più interessanti, coinvolgenti e pazzeschi, la vera e unica colonna portante di questo canale siete voi, miei aficionados. Per questo motivo sono qui oggi, come sempre, con il cuore in mano a chiedere il vostro supporto e sostegno. Se non l'avete ancora fatto, seguiteci su tutte le nostre pagine social, delle quali troverete i link immancabilmente in descrizione, spolliciate i video e condivideteli in lungo e largo fino oltre le colonne d'Ercole e fate piovere un quantitativo di commenti tale da intasarmi la mail. Confido in voi. Parliamo quindi di numeri di serie, concetto già di per sé abbastanza fuorviante sin dal nome, in quanto raramente un numero di serie è composto esclusivamente da numeri, quanto più si compone di un numero variabile di caratteri alfanumerici, ovvero numeri e lettere. E attenzione, non a caso ho specificato che questo è un numero di grandezza variabile, perché in linea di massima è la stessa azienda, la stessa casa produttrice a gestire internamente a sé la questione. Di conseguenza, laddove un dato dispositivo ipotetico di marca X sia contrassegnato da un numero di serie di 14 cifre, sparo ovviamente numeri puramente casuali, un dispositivo analogo, ma di marca Y, potrebbe averne 16, 18, 40! Nel senso appunto che non esiste quasi alcuna standardizzazione internazionale, ma sono le stesse aziende, le stesse case produttrici appunto, ad assegnare degli identificativi univoci ai propri beni che vanno a produrre e a immettere sul mercato, di modo da riuscire a distinguerli dagli altri appartenenti alla medesima serie, un po' come avviene con le componenti informatiche, i dispositivi elettronici, le carte di credito, le armi da fuoco e via discorrendo. Ancora più che questa catalogazione risulta estremamente utile sotto innumerevoli aspetti, uno fra i tanti che mi viene in mente è quello legato alla sicurezza, in quanto permette alle autorità competenti di tracciare il percorso di un determinato bene nel caso di contraffazioni, furti e via discorrendo, ma allo stesso modo anche permette all'azienda stessa di richiamare quel determinato prodotto nel caso in cui si apuri un difetto costruttivo, un malfunzionamento o un qualche problema che potrebbe andare direttamente a scapito dell'utente finale. E' ben inteso comunque che questo concetto di identificazione seriale non si applica soltanto al mondo degli oggetti fisici tangibili, ma è infatti largamente utilizzato anche nell'universo dei computer e delle console, o comunque più in generale anche soltanto quando si ha a che fare con un qualche servizio che viene venduto tramite una licenza o una qualche forma di abbonamento, in quanto l'utilizzo del numero seriale come codice di attivazione è una pratica ancora oggi largamente utilizzata, anche se paradossalmente è il metodo più utilizzato dai pirati informatici per craccare i programmi, quindi per attivarli legalmente e poterli utilizzare senza averli effettivamente pagati. A livello tecnico, quando parliamo di informatica e di elettronica in generale, il numero di serie del nostro dispositivo lo troviamo riportato su di un'etichetta che viene puntualmente nascosta in qualche oscuro pertugio, e anzi spesso all'interno del dispositivo stesso, e preceduto dall'acronimo SN, o Serial Number, oppure in alcuni casi, un pochino più rari, MSN, che sta per Manufacturer Serial Number, o ancora più raramente CN, Constructor Number. Ciò nonostante, non disperate, qualora doveste avere la necessità di conoscere il numero di serie del vostro dispositivo, non dovrete sventrarlo in due come un'albicocca, ma vi sarà sufficiente utilizzare una delle tante soluzioni che i programmatori, grazie al cielo, ci mettono a disposizione per evitare di dover giocare all'allegro chirurgo con il nostro smartphone. Se siete possessori di un iPhone o di un iPad, vi sarà sufficiente accedere alle impostazioni, quindi cliccare su Generale e poi Info, al che scorrendo in fondo la pagina troverete tutti i seriali possibili e immaginabili riguardanti il vostro dispositivo. Diversamente, invece, se stiamo parlando di un computer armato da un sistema operativo Apple, che sia un portatile o un fisso non cambia assolutamente niente, vi sarà sufficiente cliccare sulla mela in alto a sinistra, a sinistra, nello schermo della scrivania del vostro computer, quindi cliccare su Informazioni su questo Mac e nella finestra che si andrà ad aprire, l'ultima riga in basso riguarderà appunto il seriale del vostro dispositivo. Lato Android la questione è invece ancora più semplice, perché sarà sufficiente aprire il diale, il tastierino numerico, quello che utilizzate abitualmente per comporre i numeri di telefono da chiamare, e digitare la sequenza asterisco cancelletto 06 cancelletto, quindi chiamarlo come se fosse il numero di un vostro contatto in rubrica, al che vedrete apparire tutti quanti i numeri di serie relativi al vostro telefono, o quantomeno quelli legati alla parte connettività. E qui apro due piccole parentesi. La prima è per via del fatto che questo trucco che vi ho appena detto con Android per trovare il numero di serie in realtà è applicabile anche con i dispositivi Apple, quindi anche con gli iPhone. Però la sua grossa limitazione è che mostra soltanto alcuni seriali, non tutti. Di conseguenza, avendo Apple in un punto così facile da trovare un intero assunto di tutti quelli che sono i suoi seriali, mi sono sentito di rendervi consapevoli di quella, però sappiate che volendo potete applicare la medesima sequenza anche su Apple per avere lo stesso identico risultato. Mentre invece la seconda parentesi in realtà, che è più un mio ricordo di infante, per il quale voi giustamente direte, me ne frega, però mi era venuto così per condividerlo con voi, per rendervi partecipi di questa cosa. Quando io andavo all'elementari, alle medie, quindi torniamo indietro più o meno ai tempi delle guerre puniche, sì c'erano già i cellulari, era già stato scoperto da un pochino la possibilità, noi facevamo a gara quando eravamo, sì, ribadisco, elementari barra medie, facevamo a gara per vedere se il nostro telefono era maschio o femmina. Come facevamo? Banalmente utilizzavamo questa sequenza, asterisco, cancelletto, 06, cancelletto, chiama, e il numero che compariva, se finiva con un numero pari, il nostro telefono era maschio, se finiva con un numero dispari, il nostro telefono era femmina o viceversa, francamente non mi ricordo, sono passati davvero molti anni. Però questo per vedere come le cose che in realtà quando da piccolo ti sembrano incredibili, cose fantastiche assolutamente incredibili, quando diventi grande sono delle sbarbinate che non hanno né capo né coda in realtà. E infine sui computer armati con sistema operativo Windows, la questione diventa un ciccinino più complicata. Laddove non doveste riuscire a trovare la famosa etichetta di qui sopra, dovrete affidarvi ad uno dei tanti programmi preinstallati nel sistema operativo, vale a dire PowerShell. Ma vediamo insieme come si deve utilizzare. Partendo dal desktop, clicchiamo con il tasto destro del mouse sulla banderina di Windows posta in basso a sinistra nello schermo, quindi selezioniamo la voce Windows PowerShell amministratore. Al che, dal momento che i sistemi operativi parlano e capiscono solo e soltanto la lingua inglese, dovremo digitare il sequente comando, il quale tranquilli vi reporterò immancabilmente trascritto qui sotto in descrizione. Ovvero wmic bios get serial number. E infine, premendo il tasto invio, vedremo comparire nella riga sottostante a quella dove siamo posizionati con il cursore il numero di serie legato al nostro computer. Facile, no? Ebbene gente, per concludere il video di oggi voglio parlarvi anche brevemente della questione legata alla sicurezza. Se avete appena acquistato l'ultimo modello di iPhone 15 Super Ultra Mega Hyper Z Pro Max che a momenti fa anche il caffè e volete condividere la cosa sui social, in realtà potete anche farlo, ci mancherebbe altro. Ma vi prego, vi scongiuro, non fate anche la foto al retro della scatola dove sono contenuti tutti i possibili seriali di quel maledetto melatonino che costa quanto una rimetta placcata oro portata sulle ginocchia, da un monaco benedettino da qui fino in Francia. E allo stesso modo mi rivolgo anche a tutti coloro che pubblicano annunci di vendita di materiale usato sui grandi e-commerce del settore, come ebay piuttosto che subito.it. Quando caricate le foto dei vostri dispositivi, siano i computer, tablet, smartwatch, smartphone, poco importa, fate attenzione a non pubblicare anche il numero di serie. E questo lo dico nel vostro diretto interesse, perché un qualsiasi malintenzionato abile all'informatica, come al giorno d'oggi ce ne sono davvero tantissime, potrebbe sottrarvi questa informazione e utilizzarlo per ricettare dei dispositivi rubati. Sì, avete capito bene, senza scendere troppo nel merito, perché in realtà sarebbe un discorso molto lungo ed altrettanto estremamente complicato, sappiate che con le dovute conoscenze è possibile andare a sostituire, a modificare il numero di serie di un dispositivo, per esempio rubato, con quello di un dispositivo invece acquistato e posseduto legalmente. In questo modo è possibile, ribadisco con le dovute competenze e in realtà neanche in tutti i casi, riuscire a ricettare dei dispositivi rubati, come ad esempio è facilissimo utilizzando questo metodo raggirare il blocco di attivazione tipico degli iPhone, che viene attivato dall'utente stesso quando si accorge di aver perso il suo dispositivo tramite il link, il famosissimo link di Find My Phone, trova il mio iPhone, che vi lascio comunque linkato debidamente qui sotto in descrizione. Tanto per cambiare, ormai sto facendo praticamente il nome della rosa 2 in descrizione qui sotto da me. E quindi titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero vivamente, con interesse, ma ditemi cosa ne pensate di questa nuova lezione sui numeri di serie? Sapevate già tutto o vi ho rivelato qualcosa di nuovo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spallicciarlo abitamente prima di andare via. Io sono Doc e questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.